Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Vi parlo di Serie B, la copertura del settimo round della stagione comincia questa notte. Ho appena terminato di seguire l'anticipo del venerdì, la sfida che vedevo opposta il Cosenza al Como, partita molto importante per il debutto, soprattutto per il debutto di Moreno Longo sulla panchina del Como e fondamentale per il Cosenza per capire un po' questo andamento della squadra finora non negativo ma con qualche alto e basso. Ha vinto il Cosenza, ha vinto per 3-1 al termine di una partita che è stata a mio avviso godibile, comunque ben giocata, combattuta sotto la pioggia, una sfida che ha dato diversi motivi di interesse. Prima di tutto il debutto di Longo, ha giocato con una difesa 4, come giocava con difesa 3 come contro l'Alessandria, un Como che per certi versi mi è piaciuto, soprattutto in inizio di partita, quando ha pressato tantissimo, giocava molto alto, ha recuperato palloni, un Como di possesso palla che non ha giocato una brutta partita, però due dati su tutti. Il primo, il possesso palla è stato fin eccessivo, 63-64 contro 36, possesso palla che vale quello che vale, come sappiamo nel gioco del calcio, ma soprattutto è il secondo dato, quello più preoccupante sul quale l'allenatore dovrà lavorare. Tiri in porta 17-7 per il Como, nello specchio 3-3, punteggio 3-1 per il Cosenza, ovvero Cosenza totalmente efficace nel realizzare sostanzialmente a ogni tiro che ha fatto verso la porta del Como, Como invece che ha sprecato molto dei diversi tiri che ha fatto, ne ha messi pochi nello specchio e ha segnato troppo poco rispetto alle chance realizzate. Il Cosenza viceversa mi è piaciuto molto, una squadra che ha fatto del realismo, la sua parola chiave in questa gara, una squadra ordinata, una squadra che è già più gruppo del Como, una squadra dove mi è piaciuto l'aiuto reciproco anche tra i giocatori, la costanza, la prestazione del centrocampo, soprattutto del Cosenza mi è piaciuta molto e poi la capacità sicuramente di trovare rete in ogni conclusione verso la porta avversaria, complice anche uno dei problemi, mi dispiace sottolinearlo, del Como di questo inizio stagione, ovvero sicuramente una retroguardia che sta facendo molta fatica a immagine soprattutto del portiere Ghidotti che anche oggi è stato autore di una prestazione di piuttosto sfortunato in particolare anche sul secondo gol dove con un'uscita sbagliata ha creato sostanzialmente l'azione per il Cosenza. Per cui Cosenza che mi è piaciuto molto, credo che vi ha portato a casa tre punti meritati nel complesso della gara come vedremo anche da Rie Pagelle. Ora si mette al quinto posto con 11 punti, chiaramente con tutte le altre partite della giornata ancora da disputare e si prepara il derby di settimana prossima dove affronterà la regina e sarà una partita molto intensa. Non so onestamente capire per ora quali sono più che gli obiettivi proprio gli scenari che si possono aprire per il Cosenza perché da una parte è una squadra pragmatica sicuramente messa in campo nella maniera corretta, dall'altra credo che possa avere però anche qualcosa in più da dare anche dal punto di vista magari della manovra che alle volte rimane ancora un po' troppo bloccata. Credo che sia una squadra che deve ancora farci capire quale sarà il potenziale per il resto della stagione. Viceversa per il Como di fatto è cominciato un nuovo campionato con questa partita perché come sapete con Jack Gattuso, mister che adoro, fermo i box, c'è stato questo interregno senza di fatto un allenatore caporeale che ha portato pochi punti perché il Como è diciannovesimo con tre punti, non ha ancora vinto la sua prima partita e ora si riparte con Moreno Longo, un allenatore reduce comunque in carriera da due buoni risultati come la bella salvezza con il Torino nell'anno del lockdown e poi dopo i campionati positivi con l'Alessandra con la promozione della C alla B nei play-off molto meritata e poi l'anno scorso con un campionato che fino a poco dalla fine portava una meritata salvezza. Deve prendere le misure della squadra, questi dieci giorni iniziali vedremo anche poi nei prossimi giorni le partite sia del Pisa sia del Benevento perché sono curioso di vedere anche gli altri due mister al debutto come D'Angelo e Cannavaro cosa saranno riusciti a fare. Deve prendere le misure, le prime scelte di formazione magari non sono state tutte azzeccate, il Como ha una rosa assolutamente importante all'altezza per fare un bel campionato in Serie B, ha anche delle ambizioni ovviamente di poter anche salire, sicuramente è un po' da mettere tutto insieme e questa è soltanto una prima tappa, certo ora si fa ancora più importante il debutto casalingo di Moreno Long, settimana prossima contro il Perugia in una partita che credo debba essere per forza da vincere per portare a casa i primi punti. Però intanto è importante puntellare questa difesa dove oggi anche Binks, il centrale che sinceramente fino ad ora non mi era dispiaciuto, ha giocato piuttosto male, è stato anche espulso per un doppio cartellino giallo, quindi c'è il problema del portiere, una difesa ancora un po' ballerina e il centrocampo dove Bellemo manca assolutamente in maniera fondamentale. Io ero innamorato del centrocampo, il resto innamorato del centrocampo Bellemo a Rigoni, ora abbiamo tanti bei nomi, oggi mi è piaciuto Faragò, Fabregas chiaramente 90 minuti fa un po' fatica, credo comunque a tenerli, fa delle belle giocate di talento puro, da campione assoluto, quale è? Però magari la costanza lungo tutti i 90 minuti più difficile da trovarla e là davanti la coppia scelta è Cutrone-Mancuso, due bomber veri, assoluti, Cutrone si sta sbattendo tanto, Mancuso viceversa lo vedo un po', gioca in una maniera, non mi sembra ancora così coinvolto con la squadra o nella partecipazione. Io sono un grande stimatore, so che magari non sarò molto seguito in questo, però io adoro il bomber cherry, giocatore di grinta, di lotta, le sue battaglie sui palloni alti, io darei qualche minuto in più a cherry, francamente. Comunque vedremo perché è un como ancora tutto da sviluppare, questa sconfitta credo ci stia, nonostante certe alcune belle cose come detto, il buon possesso palla, tanti palloni recuperati, però concretezza, serviva magari portarsi in vantaggio in quell'inizio di partita per poi cercare di gestire invece trovandosi a inseguire poi soprattutto il secondo tempo che è piaciuto di meno del primo tempo, che nel primo tempo è stato un como più volitivo, più creativo anche mentre nella ripresa quando c'era da recuperare invece ha fatto un po' più fatica, segno anche magari di una condizione atletica anche da perfezionare. Per cui campionato da seguire, vedremo nelle prossime settimane, gol dell'1-0 di Durso, un bel numero angolato al 31esimo, al 37esimo male guidotti nell'uscita e poi Rigione, bravo a festeggiare il rinnovo con un tiro sul quale però anche Mancuso sulla linea di porta, insomma è stato un po' lento e si è messo il pallone in rete, poi il gol 32esimo il doppio giallo a Binks e all'85esimo Merone di testa, fissato il 3-1 finale, velocissimi con le pagelle, 5 e mezzo a Matosvic, anche il portiere del Cosenza e non una grande serata, senza voto Rispoli infortunatosi subito in uno scontro con Guidotti, è entrato Martino, 6 e mezzo, mi piace molto Martino, 7 a Rigione, è leader della difesa, 6 e mezzo a Venturi, 6 a Panico, bene Brescianini e Voca, i due giocatori lì a centrocampo secondo me hanno fatto un'ottima partita, 6 a Brignola, 7 a D'Urso, bel talento e soprattutto molto illuminato in questa partita odierna, 6 a Merola e 6 a Nastili davanti, dei subentrati, Vallocchia positivo e 6 e mezzo a Meroni, per quanto riguarda il Como, 5 a Guidotti, 6 a Vignali con buone spinte sulla sua fascia, 5 e mezzo a Scagli e 5 a Binks, prova troppo indecisa per entrambi, 5 e mezzo a Gagnano, 5 e mezzo a Baselli, 7 a Faragò che ha sbagliato forse anche una delle due occasioni buone che ha avuto, forse avrebbe potuto fare di più ma secondo me ha giocato una partita molto positiva, 5 e mezzo a Blanco le solite cose, qualche buona accelerazione, qualche buon talento ma anche come compiti tattici mi sembra un giocatore ancora troppo indietro, 6 a Fabregas, 6 a Cutrone e 5 a Mancuso, dei subentrati, Cerri come detto ha sbagliato anche un colpo di testa davanti alla Porsche su un cross da la destra, lui poteva fare meglio ma lottatore vero, Chai è entrato in partito dopo neanche un minuto, un bel tiro uscito di poco, lui è un'addizione fondamentale e poi c'è un giocatore che come sapete da chi mi segue dall'anno scorso di cui io sono sostanzialmente innamorato che è Parigini e mi spiace sempre quando non parte dall'inizio o a poco minutaggio. Pezzuto è un arbitro che mi piace, brutta serata per lui, voto 5, una confusione assoluta in campo, pochissimo metro nelle decisioni, non mi è piaciuto, 33 falli, 6 cartellini e un giallo rosso, un doppio giallo per Bix. Grazie ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita con la Serie B, domani live appena finite le gare, non live durante il video appena finite le partite della Ternana contro il Cittadella e del Pisa contro il Perugia, poi il Bari domenica mattina e Benevento Ascoli tra domenica sera o lunedì mattina. Grazie ragazzi, un bacio, iscrivetevi al canale e vi aspetto, ciao da Lox.